Ciao a tutti e bentornati in Tessiland con Division, la rubrica fatta da voi e per voi. Quest'oggi parleremo di tre progetti, ebbene sì, perché parleremo del progetto che ho ottenuto più mi piace durante il mese di ottobre e anche di altri due progetti molto interessanti. E poi invece parleremo di Natale, insomma, domani è il primo dicembre, quindi cerchiamo di iniziare a far sentire un po' di aria natalizia. Non prima però, ovviamente, della nostra sigla. Vai! Il primo progetto di quest'oggi è di Katia Giusti. Qui mi limiterò davvero moltissimo nel parlare perché ci ha inviato un bel messaggio vocale, un po' lunghetto, ma che racchiude tutto. Per realizzarla ha utilizzato un po' di Morris Beige, Chuck Lurex Beige e Dion. Il tutto lavorato con uncinetto numero 6. Ha usato un punto semplice, che lei definisce chicco di riso, una maglia bassa intervallata da una catenella lavorando in alternanza. Ha utilizzato 400 grammi di Morris Beige, 200 grammi di Chuck Lurex Beige e 50 grammi di Dion, ovviamente. Beige! Per raggiungere una circonferenza di circa 100 centimetri e una lunghezza di 63. La giacca è composta da tre pannelli con scavo per la manica, che ha il colmo per risultare precisa alla spalla e per dare un taglio più sartoriale alla giacca. Ma come vi dicevo, ci ha inviato un bel messaggio vocale, ma anche tantissime succulenti foto. Quindi guardiamolo e ascoltiamolo. Ciao a tutti, sono Katia Giusti, ho 58 anni, abito a Rassina, che è un piccolo paese della provincia di Arezzo. È collocato nella valle del Casentino, una valle ricca di natura, di arte e di storia. Sono una creativa da sempre. Mi sono diplomata in moda e costume teatrale all'ex Istituto d'Arte di Arezzo negli anni 80, ma poi la vita mi ha portato verso altre direzioni e per un certo periodo ho riposto la mia creatività. Da diversi anni ho riscoperto il valore delle mie attitudini e ho ripreso a tagliare, a cucire, sperruzzare e uncinettare. Diciamo che la passione per l'uncinetto è nata quando ero piccola, tramite gli insegnamenti di mia nonna Assunta, che era una grande appassionata di centrini. Poi, 6-7 anni fa, per caso, mi sono imbattuta in vari tutorial di uncinetto su YouTube e mi sono soffermata soprattutto sulle borse. E proprio attraverso questi tutorial ho conosciuto Tessilan. L'ho conosciuta quando ancora non era così famosa e mi ricordo che, se qualche volta chiamavo per dubbio consigli, mi passavano un signore carinissimo che stava in magazzino, che sapeva sempre il fatto suo e sapeva come consigliarmi. Diciamo che non sono un'assidua compratrice, ma non ho mai avuto problemi con Tessilan. Allora, come vi dicevo, la mia passione sono le borse e poi i capi di abbigliamento, ma non mi piace creare progetti di altri. Mi piace crearli, studiarli e comprare i materiali giusti per poi realizzarli. Infatti ho fatto questa giacca proprio per abbinarla ad una borsa. Questa giacca è di taglio Chanel, formata da tre pannelli, con un piccolo scavo nella manica, per creare proprio una manica con il colmo, una manica giro, per dare una migliore vestibilità al capo. Devo dire però che il filato Morris ha fatto proprio il suo lavoro. Ha creato una sfumatura nel colore, ha illuminato con quel filino d'oro che ha il suo interno. E poi il Cook, l'Urex, sempre con l'oro, e il Dion hanno dato quel tocco in più. Io vi direi che se vi piace e volete realizzarla, potete contattarmi pure anche attraverso la mia pagina Facebook e Gesti Creativi, che avrei piacere che andaste a visitare, proprio perché sarebbe una mia soddisfazione se vi trovate una fonte di ispirazione. A questo punto, che altro dire? Devo solo ringraziare la Tessilan per avermi dato questa bellissima opportunità, ringraziare tutti voi per l'ascolto, e incitarvi a creare, 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 e ancora creare con i prodotti Tessilan. Perciò, buona creatività a tutti. Ciao! E quindi su questa scia di Katia, io continuo a dire create, 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 e ancora create. Il secondo progetto di quest'oggi invece è di Roberta Pezzuolo. Guardate questa meravigliosa borsa che ha pubblicato con tutti questi funghetti accanto, davvero molto originale. Infatti, ci ha raccontato Roberta che quando ha visto questo tutorial realizzato da Chris, ha detto, questo è il bauletto per me. Ha utilizzato il Pandoro Queen Magenta, il Set Moon Panna, la tracolla Maya Fuchsia, e l'uncinetto 3,5. Ma anche Roberta ci ha inviato un vocale, quindi ascoltiamolo e sentiamo cosa ci dice. Buonasera, sono Roberta Pezzuolo, vengo dalla provincia di Rovigo. Io ho realizzato il bauletto seguendo un tutorial dell'angolo di Chris, la borsa di Michael Kors. La mia passione per l'uncinetto nasce circa sei anni fa, quando la mia bambina aveva due anni, e girando per YouTube mi era venuto fuori un video di una piccola borsetta a forma di mini. Da lì ho iniziato a provare e mai mi sarei immaginata che il crochet diventasse così tanto parte della mia vita. Non mi sono più fermata e ho sperimentato sempre più tecniche e per me è diventata la mia valvola di sfogo, soprattutto nei periodi di maggiore stress. magari anche solo dieci minuti, però devo trovarli durante la giornata per realizzare qualcosa. La gioia di vedere un gomitolo diventare un progetto è indescrivibile. Che l'uncinetto, i ferri, knitting, crochet, che dir si voglia siano una terapia, ormai è riconosciuto da tutti. E Roberta nell'ennesima testimonianza, quindi anche voi fate come lei. Volete gioire un po'? Prendete un gomitolo e realizzate la vostra creazione. Adesso vediamo invece la foto che ho ottenuto più mi piace durante il mese di ottobre. E parliamo di una persona che abbiamo già citato nelle ormai tantissime puntate di Tessilan Condivision, che è Carmen Nardelli. Leggo la sua amata letterina. Ciao a tutti, sono Carmen, ho 57 anni e abito in provincia di Varese. Ho riscoperto l'uncinetto cinque anni fa e non riesco più a farne a meno. Un giorno mia figlia ha ricevuto un invito per un evento in una tenuta immersa nei bellissimi oliveti pugliesi. E così è iniziato il dramma di tutte le donne. Cosa mi metto? Dopo aver passato in rassegna tutto il guardaroba abbiamo deciso di studiare insieme una creazione ad hoc. Iniziando dallo stile dell'outfit. Abbiamo pensato ad un look gitano ma che allo stesso tempo risultasse raffinato, particolare ed elegante. Una volta trovata l'ispirazione in rete abbiamo abbozzato un modello e ordinato subito il filato Tessiland. Su questo non ho avuto dubbi. Lo avevo già utilizzato e ne sono rimasta soddisfatta. Così ho scelto ancora il bellissimo Iggy 100% morbido cotone nella colorazione mattone che è perfettamente in palette con i colori di mia figlia. Trovare il punto adatto per la lavorazione della gonne è stata abbastanza veloce perché dopo aver visto una lavorazione della fata me ne sono subito innamorata. Altrettanto purtroppo non lo è stato per il top. Avevo deciso di riprodurre la forma di una conchiglia per le coppe e realizzarci al di sopra un volant che continuasse fino a cadere sulle braccia senza però dare fastidio intracciando i movimenti. Devo dire che dopo prove su prove è stata la parte che mi ha dato maggiore soddisfazione. Al lavoro finito ho utilizzato 13 gomitoli di Iggy lavorati con uncinetto 3,5 e 4. Ho poi foderato la gonna con del raso e il top l'ho rifinito con la fettuccia all'interno e realizzato delle asole sul retro in modo da chiuderlo con una fila di bottoncini tutto ton su ton. Adoro l'uncinetto e la magia che si crea intorno alla realizzazione di un progetto ma ancora di più adoro vedere le mie creazioni indossate e apprezzate. E insomma ecco questa creazione è stata decisamente apprezzata avendo ottenuto tutti questi mi piace. Quindi che dire grazie ancora Carmen per aver partecipato e risposto e ancora complimenti per il risultato ottenuto. Niente quarto progetto. Oggi ebbene sì perché come abbiamo detto iniziamo a sentire un po' di profumi natalizi e quindi abbiamo pensato di proporvi quelle idee piccole facili della realizzazione quelle idee quelle ok basta però immagino voglio dopo rivedere il mio con le idee piccole facili da realizzare per decorare la nostra casa la nostra tavola i nostri cerchietti i nostri fermai i nostri di tutto e di più ci sono quelli ovviamente realizzati dalle creative che utilizzano i nostri articoli e su quelli alziamo le mani ma anche noi di Tessiland ci siamo divertiti a realizzare qualcosa di carino lo avrete visto sicuramente nei nostri reel ah no? allora vi faccio vedere io un piccolissimo riassunto ebbene sì quel momento dell'anno è arrivato esatto qui già tutto pronto per dare in via le creazioni il Natale mettete insieme un noioso pomeriggio invernale una decorazione da creare in pochissimo tempo per Giandi e Piccini partiamo con il materiale che occorre per la realizzazione io ho scelto i ghi, iuta e delle sfere di legno di diverse dimensioni rifilati avanzati dei rotoli di carta forbici e ovatta come potete utilizzare degli avanzi di lame e di lica che avete in casa tanti scomolini colorati la iuta colore verde che cosa ne uscirà fuori? basterà a creare una catenella di circa 50 cm partiremo da un'apertura piccola fino ad allargarci sempre di più ad arrivare così ad una base più ampia abbiamo realizzato Candy Cane questo appellino che è un alberello stilizzato dalle stili minimal questa per esempio potrebbe essere una carinissima idea di sacco per le nostre confezioni di alo queste invece eventualmente le possiamo utilizzare per l'albero oppure per decorare oppure anche incollarli sui fermacapelli presenti anche sul sito Tessiland oppure dei cerchetti nell'articolo del blog di Gatticcissini faccia un uncinetto con la pittuccia di l'icra insomma a volte basta davvero poco no? poi per approfondire però andate sui nostri social e cliccate sui vari video e realizzate anche voi le vostre creazioni di Natale e la puntata di Tessiland con Division finisce qui vi ricordo di iscrivervi su tutti i nostri canali social youtube attivate la campanella commentate qui sotto il video di grazie cliccate anche un bel pollice in su se volete farmi felice quindi siate buone perché siamo vicini a Natale grazie cliccate il mi piace alla nostra pagina Facebook meglio di mai dove vengono pubblicati e selezionati tutti i progetti poi citati in Tessiland con Division iscrivetevi ovviamente anche al nostro solo unico esclusivo ufficiale gruppo Tessiland che sta crescendo ormai tantissimo ma avete anche scoperto che insomma ecco essere iscritte sicuramente ai suoi lati positivi parlando di iscrizione ovviamente iscrivetevi anche alla newsletter perché come avete visto ogni mail è fonte di ispirazione di codici sconto spoiler e tantissime altre cose seguite ovviamente i nostri reel perché come avete visto sono fondamentali questi sono solo alcuni dei progetti di cui abbiamo parlato ma poi vi diamo anche delle idee parliamo degli articoli presenti sul nostro sito seguiteci ovviamente in tutte le altre rubriche anche Tessiland News leggete il nostro blog con gli articoli meravigliosi di Rosaria che sono uno spunto per qualsiasi cosa e ovviamente seguiteci nelle nostre dirette con Andrea ovvio e la puntata di Tessiland Condivision quindi si richiude qui come sempre ci auguriamo di avervi fatto passare qualche minuto in allegria leggerezza un po' di spunti creativi e tanto Tessiland noi ci vediamo alla prossima puntata di Tessiland Condivision ciao Ciao